Ciao a tutti e benvenuti sul canale, oggi sono qua per presentarvi Skyblivion, che immagino voi di... Starete pensando, ma cos'è? Skyblivion è un progetto spinto dall'amore dei fan per The Elder Scrolls Oblivion, quindi il capitolo precedente a Skyrim. Non si tratta di una mod, ci sono proprio degli sviluppatori a lavoro dal 2012, quindi da tanto tempo, che stanno sviluppando questo gioco, che dovrebbe essere, anzi che è, che sarà, perché in questo video ci danno anche una finestra di lancio, che sarà, scusate la sirena dell'ambulanza ma non ci posso fare nulla, che sarà Oblivion rifatto con il motore grafico di Skyrim, quindi a tutti gli effetti si tratta di una remastered vera e propria. Non sta venendo sviluppata ufficialmente da Bethesda, ovviamente, come vi dicevo sono dei fan che la stanno facendo, ma sono tanti, sono sviluppatori veri e propri e sono a lavoro dal 2012, quindi veramente da tanto, tanto tempo. Ecco, con questo breve trailer volevano avvisarci del fatto che il gioco uscirà e ci volevano anche dire che al massimo arriverà nel 2025. Quindi, adesso siamo nel 2023, mancano un paio d'anni, teoricamente entro il 2025 Skyblivion dovrebbe uscire e ovviamente per tutta la community di amanti di GDR ed azione questa è un'ottima notizia. Voi dovreste solamente farmi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e vi ricordo anche di mettere like al video perché è una cosa che aiuta veramente un sacco e di seguirmi live su Twitch, vado in live praticamente tutti i giorni. Come vedete è The Elder Scrolls Skyblivion e adesso comparirà anche la data d'uscita che è il 2025. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Bella raga, i link li trovate tutti in descrizione.